Abbiamo riaperto l'attività? Sì, abbiamo riaperto il giorno 18, sì. Come si sta lavorando? Ma a rilento, la gente è timorosa quindi sta un po' attenta ad entrare, ad avere contatti. Comunque bisognava pur ripartire in qualche modo, nella speranza che ci aiutino un pochino con i pagamenti, con le scadenze, con tutte... L'associazione di commercianti ha chiesto al comune di non pagare la Tosa per dare spazi senza pagare la Tosa? Sì, questo lo sappiamo, questo è già un fatto positivo che ci aiuta un pochino perché bisogna privilegiare gli spazi esterni perché dentro lo spazio è limitato e di conseguenza gli spazi esterni vanno ampliati per poter lavorare meglio. Come la vediamo questa stagione 2020? La stagione la vediamo un po' triste perché il fatto che magari non c'è uno spostamento di un flusso turistico come c'era negli altri anni, quindi erano loro che portavano ossigeno all'economia, soprattutto dei paesi balneari. Mancando quelli è un problema, sarà un problema. Ma siamo fiduciosi? Fiduciosi bisogna essere sempre, mai gettare la spugna, però se c'era un aiutino in più da parte dell'istituzione forse si poteva superare questo problema.